ciao a tutti oggi vediamo queste particolari scatolette sono delle scatolette costituite da un materiale morbido molto resistente e può essere utilizzato per bijoux piccoli minerali monete fossili medaglie e la particolarità è che segue la forma dell'oggetto ed è riutilizzabile più volte allora vediamo qui che c'è proprio l'incavo per aprirlo c'è anche scritto push devo spingere semplicemente con due dita si apre in questo modo si posiziona l'oggetto che si vuole contenere può essere un minerale come in questo caso anche se ha uno spessore piuttosto rilevante come vediamo qui non c'è nessun problema perché è costituito da un materiale molto resistente nel momento in cui io vado a chiudere segue la forma dell'oggetto che potrà essere visto come se fosse sospeso sia da una parte che dall'altra senza problemi poi lo vado a riaprire e lo posso riutilizzare per un altro oggetto in questo caso una medaglia e anche qui è possibile vedere il fronte e il retro della medaglia può essere posizionato anche verticalmente perché proprio la forma permette di stare verticale quindi poter esporre qualsiasi oggetto come vedete i colori sono bianco o nero nella struttura qui proviamo a mettere un ciondolo in ambra in modo da poter vedere le inclusioni dell'ambra sia da una parte che dall'altra queste scatoline sono molto belle anche per fare un regalo un po' particolare e innovativo vediamo anche qui che nel momento in cui noi andiamo a togliere l'oggetto contenuto la scatolina è riutilizzabile senza nessun problema in questo caso ho posizionato una pietra e il materiale plastico seguirà in modo molto morbido la forma della pietra come dimensioni abbiamo due dimensioni abbiamo visto prima le dimensioni più piccole questa invece è una scatolina più grande ecco qui sono state posizionate tre monete così anche in questo caso possiamo vedere il fronte e il retro come dicevo le misure di queste scatoline possono essere o 7 x 7 cm con uno spessore della struttura di 2 cm e una misura interna di 5,6 x 5,6 ecco in questo caso un bijou un ciondolo da regalare molto particolare come dicevo in questo caso noi possiamo vedere tutto l'oggetto in tutte le sue parti ecco qui le nostre quattro scatoline bianche e nere la misura delle scatolette più grandi è 9 x 9 come dimensioni totali oppure 7,6 x 7,6 cm all'interno abbiamo anche confezioni da 5 pezzi trovate tutto sul nostro sito elettronicadidattica.com continuate a seguirci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica per restare sempre aggiornati io vi aspetto per i prossimi video ciao a tutti a presto a presto a presto a presto a presto a presto